Sono i rifiuti il nuovo vero business delle organizzazioni criminali. I reati ambientali, secondo la direzione investigativa antimafia, che oggi ha consegnato al Parlamento la sua semestrale relazione, stanno aumentando in maniera esponenziale. Ormai da anni le mafie hanno in mano una grande fetta dell'intero ciclo dei rifiuti, dalla raccolta allo smaltimento, ed è un potere che tendono a consolidare e a espandere. Nuovi e vecchi interessi, business e illegali, che contraddistinguono nello specifico le diverse organizzazioni criminali del nostro paese. L'andrangheta, oltre al traffico di droga, punta alla politica e agli affari che da questa possono scaturire. Lo dimostrano le inchieste e sono solo le ultime, in ordine di tempo, che hanno portato a scoprire le mani lunghe dei calabresi nelle ultime elezioni regionali in Piemonte e in Val d'Aosta. Continua ad essere il traffico di stupefacenti, il canale privilegiato della mafia siciliana, soprattutto per ottenere denaro contante da reinvestire. Ma non mancano segnali di insofferenza, avverte la direzione antimafia, da parte di alcuni affiliati, per una gestione del comando difficoltosa per via della latitanza del capo dei capi, Matteo Messina Denaro. E poi la DIA parla della mafia foggiana, al centro della cronaca in queste ultime settimane. Pizzo e estorsioni, a chi non paga, a chi si mette di traverso, spettano punizioni e intimidazioni, come dimostra la serie di attacchi con esplosivi avvenuti in questi primi giorni dell'anno. Bisogna scegliere da che parte stare, dice Giuseppe Antoci, vittima della mafia messinese, quando era presidente del Parco dei Nebrodi. E va dimostrata non necessariamente ponendo azioni coraggiose, ma le piccole cose. Cioè, anche mettere un manifesto, un manifestino, una carta fuori dal negozio, dice io non pago, guardate, non entrate, perché se mi chiedete il pizzo io ti denuncio.